Beh ragazzi, gran colpo, buon colpo, grande no, però secondo me è un colpo utile, un colpo che ci può stare tantissimo a questo Napoli. Mazzocchi sarà un nuovo giocatore del Napoli, nuovo terzino per Walter Mazzarri e a me è un giocatore che modestamente piace. Lo dico da romanista, è un giocatore che a me piace, di gamba, di spinta, tecnico, bravino coi piedi e andrà a fare il sostituto di Lorenzo. Come ho detto non giocherà titolare perché prendere il posto del capitano sarà abbastanza difficile, abbastanza ardo, però ricordiamo che il Napoli ha due competizioni, anzi tre perché ha anche la Supercoppa italiana e quindi Mazzocchi troverà quasi sicuramente alcuni spiragli per giocare quantomeno il più possibile, tra virgolette. Io dico sempre, le grandi squadre, ok, i 11 titolari, ma si vedono soprattutto nei 22-23-24 giocatori totali, perché siamo tutti bravi ad avere 11 titolari forti, per esempio la Roma secondo me è una squadra forte, ma magari se vai a vedere la panchina, alla Roma manca qualcosina per fare il grande salto. Ecco, se il Napoli prima aveva Giannoli, quindi Mazzarri si guardava la panchina e vedeva Giannoli, che ha poca presenza in Serie A, poca esperienza, ora può guardarsi Mazzocchi, che l'anno scorso ha fatto un ottimo campionato, fino a qui non sta facendo bene a Salerno, non ha fatto bene a Salerno, però sicuramente con la Salernitana nessuno avrebbe fatto tanto bene. Ecco, la Salernitana è straultima in classifica, gli unici giocatori magari che potevano fare la differenza nella Salernitana erano proprio Mazzocchi, Candreva e Dia. Candreva ha 35 anni, a volte va bene, a volte no. Dia quest'anno male e Mazzocchi pure si è fatto un attimo travolgere dall'andamento della Salernitana. Certo, non che il Napoli sta andando benissimo, però perlomeno avrai tante chance per sfornare assist, fare anche qualche gol, perché comunque la scorsa stagione, quando la Salernitana andava benino, anche lui l'impronta alle marcature le dava. Come ho detto, ha le sue caratteristiche, è un giocatore di gamba, quando parte, ragazzi, non lo prendi manco col motorino. Secondo me in una squadra come la Roma sarebbe servito come il pane un giocatore così, perché magari non tanto sulla destra ma sulla sinistra avremo bisogno di un esterno. Non so quanto sia più debole di Christensen, perché Christensen ha due piedi storti, però alla fine sono due giocatori che sono mesi, equivalgono in un modo o nell'altro, vanno a sopperire alle proprie debolezze. Mazzocchi comunque è un buon giocatore, 28 anni, di gamba, forte, fisico, non è altissimo, ma comunque il suo fisico lo fa sentire. Mette dei cross perfetti, quello che manca alla Roma o al Napoli. Le squadre non crossano, nel Napoli non c'è un giocatore che sa crossare. Poi, devi saper crossare perché così manna, è alto due metri e di testa ci sa fare. E se non gli dai le palle aeree, lui come può fare l'all goal? Sì, è un gran giocatore in altre caratteristiche, però il suo campo preferito secondo me sono anche due le aeree di Osimena. Se non gli metti quelli, è come se, non lo so, levi a Lukaku il fisico. Non dico rimane poco, ma comunque gli togli tanto. Se a Kvarskjela non gli dai il pallone sui piedi, che può fare lui? Può correre per tutto il campo a prendersi la palla? No, gli la devi dare sui piedi, quello che i terzini del Napoli non sanno fare, che sa fare Di Lorenzo, ma non sa fare Mario Rui, non sa fare Oliveira, Zanogli è ancora troppo acerbo per saperlo fare. E quindi Mazzocchi porta, secondo me, esperienza, tra virgolette, ma anche sicurezza. Voto al colpo, secondo me 7,5, lo prendi a 3 milioni, ecco le cifre, 3 milioni. Se va male, amen, lo rivendi, tanto ci farai più di 3 milioni, ce ne farai 6, 7 comunque, quindi farai una plusvalenza del 100%. E se va bene, e lo spero tra virgolette per il Napoli, te lo tieni e comunque ad avercelo un giocatore che ti rende come Mazzocchi magari la scorsa stagione. Perché i numeri di quest'anno di Mazzocchi sono altamente deludenti, solo un assist, tra parentesi io ce l'ho al fantacalcio e quindi ora farò la coppia Mazzocchi e Di Lorenzo, una buona coppia, dai. Però, ripeto, con la Sernitana, secondo me, neanche Teo Hernandez o neanche lo stesso Di Lorenzo avrebbero fatto grandissime cose. Qualcos'altro da dire? Secondo me no, ora il Napoli ha un calciomercato da fare, perché io guardo questo colpo e sono felice se fosse un tifoso del Napoli, però guardo la classifica e mi metto a piangere. Voi magari penserete, ma la tua Roma dov'è? È uguale a Napoli? Sì, con lo sconto di differenza cambia poco. Però la vera differenza tra Roma e Napoli è che praticamente il Napoli l'anno scorso era campione d'Italia, la Roma no. E quindi sono due standard diversi, perché il Napoli comunque ha lo scudetto cucito sul petto e deve onorare il fatto di essere campione d'Italia. La Roma non lo è, magari lo sarà un giorno speriamo, ma ancora non lo è, diciamo così. Poi il Napoli è anche fuori dalla Coppa Italia in un modo umiliante dal Frosinone, ma quella è un'altra storia. Quindi comunque per convertire la classifica devono fare un mercato all'altezza, ma Zocchi è un contorno di un buon mercato, perché comunque è un sostituto, ricordiamolo. È un ottimo sostituto di lusso, che magari in altre squadre come Atalanta, Roma, Lazio avrebbe fatto il titolare inamovibile, quindi avercelo in panchina è un lusso. Ma comunque ora il Napoli deve andare a prendere gente come Samarzic, che può dare una svolta al centrocampo. Perché? Perché lo vodka è arrugginito. Zamba chissà, mi sembra meno lucido. Dombele non ce l'hai più. E Cajuste sta andando malissimo, è un flop clamoroso. E quindi al centrocampo serve qualcuno, una mezzala box to box che si inserisce. E Samarzic è quel giocatore. In difesa, Nathani infortunato non mi dà garanzie. Juan Jesus lasciamolo perdere. Rachmani una volta sì, due volte no. Alla fine anche lì un difensore che ti dà certezze tipo Soleil del Salisburgo, uno dei tanti, sarebbe da prendere. Detto questo ragazzi, io vi do appuntamento al prossimo video, scrivete nei commenti cosa ne pensate di questo colpo. Lasciate un bel like, iscrivetevi al canale. Ripeto, secondo me è un buonissimo colpo, un buon contorno per un ottimo mercato invernale. Come ho detto iscrivetevi al canale e noi come sempre ci vediamo a un prossimo video.